musica ok scusate devo fare una cosa importante e niente si riprende scusate ancora ok prima prendermela con i peccicoli facciamo così facciamo così facciamo questo bel trattamento e via ancora no non voglio cucinare facciamo forse facciamo la carota allora lì c'è il gigante c'è il grosso lì c'è l'ariete facciamo forciere il forciere del fuoco prendiamo anche questi forciere del fuoco no voglio apri ghiaccio questo cosa c'è sono le patate qua dentro il tavolo è così un secondo c'è anche questo qua apposto bene ehm prima di affrontarli magari mi do una curata no no sbaglio sempre c'è la b c'è la b ma non una nera hai due un te un te un parma un parma un parma un parma un parma un parma adesso si che si va cominciamo così un pazzetto, un headshot, boom headshot e un altro boom headshot, ho usato la bambola, non ci siamo, ok, come ti permetti, chi è, giù, 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 ma basta, dobbiamo morire, più che però sono di livello 20, non so neanche se questa missione devo farla, il livello che mi ritrovo, comunque, ho alcune idea se questa missione va fatta al mio attuale livello 15, 19, faccio salire giusto ancora un pochino, dai, qui ci siamo, guarda quante ne ho, guarda, adesso uso 5, 10 di questi proprio, va bene, magari, quindi dai, vedo magari che sono un po' di questi, un'arma, il tizio lì al massimo, quindi sulla maga, facciamo così, faccio stare un minimo al passo, 6, 17, ok, io non li sto usando tutti su un solo personaggio perché non ho ancora capito qua chi ha potenziato per prima, allora, lì sta seduto, lì c'ha, magari per renderla, ah, mi ha visto, mi ha visto, è venuto a grande, sono venuta qui, dove? io sto spontanea volontà, perfetto, dance, magari possiamo starci, lo sto rompendo? ok, faccio meglio rostrarci, dai non mi sono fatto coltire andare un po' di fuoco così e faccio a freccia ogni tanto che si picchia col tuo passetto è arrivata un'amica non forte ok ok arriviamo lontano non voglio tirare l'attenzione e vai un po' qui c'è anche te quindi questo è a posto rimane il piccolino e il grosso ci lascio fare un po' di affari loro che sono i osi che ci sono i osi non 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 abbiamo questo attiriamo l'attenzione del piccolino è attirato in automatico anche l'attenzione del grosso ok tutta la bambolina ci stai giù prima a trovare meglio non 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 ecco ecco adesso marchando con lui via lo scuro combattere il vero uomo allora sei incendiato vabbè li facciamo allora bambolino facciamo anche così io te lo tolgo di nuovo grande la lampada sì 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 boom 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 ecco quindi dobbiamo pararsene e anche io l'ho detto e via stoppare mi piacere che sei di livello 21 ti piace ad entrare con i più deboli comunque so da me lo attimo esattamente quindi giù usciere dammi 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 disattiviamo l'altra barriera col fuoco allora poi si scopre che l'ultima barriera mi manca l'elementare bene e anche questa è andata mi ha lasciato la bellezza di un cappello dell'istruttore no mi scoccia lasciare quel globo lassù ma non vedete come si fa io non voglio perderci adesso tempo magari lo faccio un'altra volta con calma sempre che non ne scavoni via ok ora devo andare la sua nord facciamo che è troppo forte così tanto per quindi adesso devo andare a nord esplora e sblocca il 3-seal del sigillo a 3 no sto sbagliando peccato che non si veda sulla minimappa almeno era in alto il segnalini che metto vabbè sicuramente c'è il modo ma non so e poi si gode di una bella vista eccoci qua guarda c'è un calderone risotto laggiù c'è il totem scendiamo infatti c'ho strano che non c'è nessuno lì ci sono gli amici laggiù ci saranno i grossi coppa di rivalo clinici già più fattibile oh bene rivalo clinici è decisamente più fattibile doppia scura tutti venite anche voi? vi sono andato a 19 ehi 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 guardate così sempre che voi vi trucchiate con altri e voi da tutti? mi portate in mezzo a campamento solo per me buono buono questo è rimasto qui da solo soletto ok zang ci si può buttare qualcosa qua dentro non si può buttare niente come si può buttare niente secondo me ho la paga sensazione che se gli spengo il fuoco ti cede fuori non si può buttare niente però come c'è a prendere niente ma è rimasto non scegliamo la stessa no ovviamente no però che strano perchè me lo fanno bene vabbè basta vabbè basta sarà sicuramente un'arma leggendaria sì 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 non c'è nessuno un uccellino into the fire ah che fa un piove chi è l'infame che fa piove oh è l'infame non fermi no non è notte anticipa tutto 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 ma basta sì 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 E devo smettere comunque di tirare fuori il spazzetto E poi spazzarvi in lice Ah beh lice c'è il timer No Eeeh Eeeh 30 secondi Buonanotte Che sta 20 secondi 20 secondi 20 secondi Guarda è l'ultimo 15 secondi Sì a casa Neanche una mini ricompensa dai No Loot No No vabbè dai questi Così E Ah no ok basta Guarda se il loot c'era Basta Di arte E tanti saluti E questa missione è fatta Andiamo a prendere la nostra lauta ricompensa Anzi scomento che apparirà sicuramente un botto di un'altra cosa così facile Eeeh Direi di andare anche a piedi Tanto Evitiamo di combattere contro i sufi Sì 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 Ottieni il tesoro al centro del cimicero della spalla Buongiorno Anzi no magari mi riporto dietro Non mi fa piedere forziere finché non li sconfiggi Sì 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 Eh guarda Vabbè avete capito avete capito che come me non ha fatto Oh Un bel portiere Oh Della lussuria Prototipo 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 Trottile crafting Migo feather quindi sono artefatti e una roba per cattar direi armi no questa ripristina gli hp e questa mentre l'attacco la difesa anche quella degli hp, per quanto riguarda gli artefatti quella che si fa la piuma leggendaria ah chi fa questo, non soltanto ci sarà lucky dog 1, 2, 3 no, già c'è lucky dog il testore quella del berserker è interessante e quindi abbiamo portato a termine la missione quella roba lì come si chiamava, anche da fare la daily ah, però adesso posso seguire lì sopra e direi che si può fare la prossima missione a parte la vista non c'è nient'altro e va bene prossima missione, vediamo un po', non questa un chilometro abbastanza di distanza, l'avventurera dobbiamo andare qua, non l'idea di un chilometro una città certo che succede? si può farla, ma è 50 metri già lì qua ma non mi ricordo più che cosa sarà ah ok, questa roba è poca, adesso non so che farmi non faccio una mica no problem no problem no in which case let me try to make this quick we are most grateful for your commission completion to date the guild's reputation has grown stronger as a result however another consequence is that we are receiving an unprecedented number of requests more than our current numbers can handle you want us to do some recruitment for you? uh no although I appreciate the offer it would be fantastic to have some new members but scrambling to officially recruit new members at this stage would not really solve our immediate problems so what I want to ask is would your friends have the time to help out? no no that is not what I meant I know that your friends come from all walks of life and asking them to become official members may be impractical my request is of the more presumptuous kind a guild needs a favor right now we urgently need to find people for our expeditions we organize expeditions to explore areas around the city and in the wilderness it is a way to keep ourselves informed of any emerging dangers unusual activity in the since expeditions are not commissioned by a third party there are no strict deadlines for completion however we neglect them at our peril if trouble were to foment unchecked it could easily turn into a major disaster pretty important then it seems like a long time rest assured that the guild does not take a cut of the spoils from expeditions everything goes to you and your friends now without further ado let me show you the expeditions that are currently available as soon as soon as soon Non l'ho già apputa. Sono tipo delle missioni... Aspita nel fondo. Tutto lei. Ah, quindi io tipo mando in giro della gente, fa delle missioni, in cambio tenendo delle ricompense. Non credo che mi muoia la bot processa proprio qui. Ci mando... 8 ore, 20 ore. Ci mando... Ci mando l'Aito. Va bene. 10 minuti. Spacca a qualcuno sui un'expedizione a ogni momento. E' ancora possibile il tuo avventure, se ne potrebbero essere chiusi. Tu possono anche chiusi il tempo per l'expedizione. Dopo il tuo amore rinno, vieni qui e confermere il rischio. Se il tuo avventure rank aumenta, più allergiche avventure sono disponibili. Dopo tutto, con l'epicza di potenza, è l'epicza di responsabilità! E, ovviamente, condivisione rischi con l'experienza anche per tutti i suoi segreti Grazie ancora per la tua scuola spero che tu e i tuoi amici possano aiutare con le nostre spedizioni come possibile va bene va bene cosa hai da dirmi? prendi 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 non prendi esercire le daily no perchè devo ancora farle ma... si vado fatti va bene se fosse una cosa più complicata semplicemente era una cosa per dire adesso potrei fare le missioni inferne